Musica, divertimento, socializzazione, scambi culturali, amicizia, gusto, spettacolo, tutto concentrato in un unico evento, l'Etno Music Festival, che si è concluso ieri a Ottati con un bilancio positivo da parte degli organizzatori. Nonostante le piogge del pomeriggio, gli eventi si sono svolti come da programma, facendo registrare una grande partecipazione da parte di giovani provenienti da ogni parte della regione. Grandi artisti e grandi DJ per l'evento musicale simbolo di Ottati e degli Alburni, giunto alla decima edizione, è realizzato nell'ambito del più ampio progetto di itinerario di religioni e gusti, finanziato dalla regione Campania con fondi POC 2014-2020, che ha visto la sinergia dei comuni di Sala Consilina, ente capofila del progetto, Albanella, Casa Albuono, Corleto Monforte e appunto Ottati. Una due giorni intensa per un evento ripreso dopo un lungo stop e che sta riscuotendo sempre più successo, soprattutto tra i giovani, per la capacità di far convergere in un unico luogo diverse etnie con le loro tradizioni musicali e gastronomiche. La decima edizione di Ethnomusic Festival si chiude quindi con un nuovo successo di partecipazione con grande soddisfazione per il vice sindaco e delegato alla cultura e turismo di Ottati, Martino Luongo. E' stato un evento all'insegna dell'allegria e del divertimento di Chiara Luongo, che ha visto la partecipazione di tanti giovani provenienti da diverse parti della nostra regione. Tutto questo è stato possibile grazie alla regione Campania, che ha cofinanziato l'evento con il POC Campania 2014-2020 e alle associazioni e partner che hanno collaborato alla riuscita dell'Etnomusic Festival. Come vice sindaco delegato alla cultura e turismo, sottolinea, sono molto soddisfatto per come si è svolto e per gli artisti che si sono esibiti. Ognuno di loro ha dato il massimo sul palco, trascinando e conquistando il pubblico, facendolo cantare e ballare fino a tarda ora. Ci rivedremo il prossimo anno con nuove sorprese. Il vice sindaco di Ottati, attraverso il suo profilo Facebook, ha voluto inoltre ringraziare quanti hanno contribuito alla riuscita dell'evento, garantendo il successo della manifestazione.